Ma quello è il Quirinale, non può essere il Quirinale. Sotto c'è appunto il Colosseo, il Reserpetti, il Via Nazionale verso per così e là c'è il Quirinale. No, 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 non è il Quirinale. Tu parla di Mereggio, che ne siete? Che ne siete dell'uomo? E comunque mia regina ci racconta a noi. Sono andato nel 1915, quindi pensi che all'età di cinque anni andavo al cinema, era questa magia assolutamente travolgente, cominciando a vedere i film con Tom Hicks, con Mary Pickford, Douglas Fairbanks, Chaplin, Buster Keaton, che erano quelli che mi piacevano di più, perché ai tempi in cui io andavo al cinema a vedere il cinema, si faceva in genere i film, è normale, muto, è completamente muto.